Ogni domenica facciamo memoria della risurrezione del Signore Gesù, ma in questo periodo, dopo la Pasqua, la domenica si riveste di un significato ancora più illuminante. Lo ha sottolineato Papa Francesco in Piazza San Pietro, prima della recita della Regina Cieli. Commentando il Vangelo del Giorno, che racconta l'apparizione di Cristo risorto ai discepoli riuniti al Cenacolo, il Pontefice ha riflettuto sul primo compito che il Signore trasmette alla sua Chiesa, portare a tutti l'annuncio concreto del perdono. Questo segno visibile della sua misericordia, ha rimarcato Papa Bergoglio, porta con sé la pace del cuore e la gioia dell'incontro rinnovato con il Signore. La misericordia alla luce di Pasqua si lascia percepire come una vera forma di conoscenza. Ma questo è importante. La misericordia è una vera forma di conoscenza. Sappiamo che si conosce attraverso tante forme. Si conosce attraverso i sensi, si conosce attraverso l'intuizione, attraverso la ragione e altre forme ancora. Bene, si può conoscere anche attraverso l'esperienza della misericordia. Perché la misericordia apre la porta della mente per comprendere meglio il mistero di Dio e della nostra esistenza personale. La misericordia ci fa capire che la violenza, il rancore e la vendetta non hanno alcun senso. E la prima vittima è chi vive di questi sentimenti, perché si priva della propria dignità. La misericordia apre anche la porta del cuore e permette di esprimere la vicinanza, soprattutto con quanti sono soli ed emarginati, perché li fa sentire fratelli e figli di un solo padre. La misericordia, proseguito Papa Francesco, favorisce il riconoscimento di quanti hanno bisogno di consolazione e fa trovare parole adeguate per dare conforto. La misericordia riscalda il cuore e lo rende sensibile alle necessità dei fratelli con la condivisione e partecipazione.